Oggi 15 ottobre c'è il sinodo che ovviamente significa assemblee vaticane su vincoli d'appalto del diritto canonico, no? Sinodo. E a quanto pare, per quanto riguarda la Sicilia e la mia provincia, di noto è stato proclamato ieri, allontanandolo dal sinodo, ad una carica particolare nell'arcidiocesi della Sicilia sudorientale, con inerente Grand Prix, i rally delle macchine nelle strade di Avola Antica, ovvero uno strano contrabbando di Rotterroni. Non so se oggi di noto sia presente al sinodo, ma non dovrebbe mancare a un appuntamento così importante, perché non è importante la corsa delle macchine o un bel rinfresco all'eremo con dei bei corridori, quanto invece importante sia il sinodo in Vaticano. E allora a chi vogliono presiedere?